Benvenuti al Financial Update. Financial Update di febbraio 2024. Financial Update sempre meno sentito da me. I primi tempi, sia quando bloggavo che quando ero su YouTube, mi piaceva di più fare Financial Update. Adesso mi piace un po' di meno. Mi piace un po' di meno, perché sarà che il mio focus mentale è meno sulle mie finanze, più su alcuni aspetti di personal finance o aspetti di investimento, teoria più che altro. Però sto ponendo poca attenzione, onestamente, alle mie finanze. Mi interessa di più l'andamento della mia attività in questo momento. Guardo poco al mio patrimonio, guardo molto al mio cash flow e al cash flow aziendale. Spero di riprendere un po' più di voglia di fare Financial Update come si deve, però lo facciamo perché stiamo in striscia e non ci fermiamo, non ci si ferma. Partiamo con la parte business. Allora, questo è Bexio, software che uso per la contabilità della Retire in Progress GameBA. Ricordo, per chi si fosse connesso per la prima volta, io vivo in Svizzera e la mia attività viene ormai praticamente svolta tutta quanta sotto il cappello di una società a responsabilità limitata. Il mese dal punto di vista aziendale è andato abbastanza bene, è andato molto bene. La mia azienda ha un'entrata e uscita che mi soddisfano. Sta raggiungendo il suo potenziale senza l'aggiunta di altre aree, diciamo altre attività, però io stesso sto raggiungendo un po' i miei limiti di quello che riesco a gestire. Ormai sto scoprendo che delegare faccio veramente tanta difficoltà. Non riesco neanche a gestire le persone che al momento mi stanno aiutando. Sono dispersivo, confuso, chiedo scusa ai miei collaboratori perché non li sto aiutando ad aiutarmi. C'era a un certo punto nel mese un'ipotesi di crescita in tutte le direzioni, però poi troncata sul nascere da parte mia perché sono un po' cagasotto. Sono un po'... è complicato ragazzi, è molto complicato. È stato un mese molto difficile, posso dire che è stato un mese difficile. Ho viaggiato a Roma, ho viaggiato a Milano, successe cose, un mese difficile. Tutto sommato l'attività di content creation, l'attività della mia società responsabile limitata, che al momento è tutta quanta attorno alla mia content creation, è andata bene, è andata bene. Questo è l'andamento di febbraio e è il balance sheet, ok? Scusate, è l'income statement. L'attività ha avuto entrate di circa 31.000 e qualcosa. Franchi svizzeri. Not bad, not bad. Sono molto soddisfatto. Molte di queste entrate stanno ancora in attesa, nel senso che sono entrate generate nel mese di febbraio, molte di queste sono o appena fatturate oggi, oppure da fatturare ancora, però sono valore aggiunto prodotto in questo mese. Una parte è stimata, nel senso che ad esempio parte della parte sponsorship, nella categoria affiliate marketing, ci sta affiliate marketing e sponsorship, parte di queste entrate sono ancora stimate da me e non effettive. Gli ricavi stimati non andrebbero inseriti in bilancio? Qui parliamo dell'income statement. Ci sono entrate e uscite, non è bilancio. Il bilancio è il balance sheet che sta qui. Nel balance sheet, che però adesso se clicco meno dovrebbe andare, nel balance sheet, counting reports, nel balance sheet, il patrimonio dell'azienda è 60.000, 50.000 circa, le entrate stimate stanno in receivable, tutto quanto qui sta al grosso, cioè tutto quanto in che poi me li ridai, e tutti i crediti che ancora non... che poi me li ridai, che poi me li ridai, tutti i crediti. In income statement al momento, ok, è tornato l'incontro tutto il mese. Infatti non volevo fare questo qui, volevo mettere il primo gennaio, 31, no, volevo fare 29 febbraio, eccolo qui. Mese di febbraio, circa 31.800 franchi di entrate per la mia azienda. Il grosso, come vedete, il più grande percentuale viene dalle sponsorizzazioni e dalle affiliazioni. Ripeto, non posso entrare nel dettaglio quale sponsorizzazione, quali affiliazioni mi ha dato quanto, perché con alcune di esse ho degli accordi di non divulgazione specifica. Però non è... posso dire quante e quali attività di sponsorizzazione ho fatto nel mese di febbraio che sono essenzialmente Interactive Brokers, ricordo per chi vuole di fare un clicchino su M2CB, Trade Republic, le altre grosse sono state, ho fatto una sponsorizzazione con Edenred, società di buoni pasto, una con Revolut, che è uscita proprio stamattina, il video, e ho visto che vi è piaciuto, alla gente è piaciuto. Piccola digressione sulla sponsorizzazione con Revolut, la facciamo fra poco. 23K, sì sono tanti, sono tanti, sono tanti, la mia filosofia, ok facciamo parere, visto che questo è il grosso della parte delle entrate, ora ne parliamo, io ho due sponsor grossi, che sono i miei broker, Trade Republic, i miei broker, il mio broker è Interactive Brokers, e Trade Republic, chi è interessato, c'è un flowchart, mr.rip.com slash brokers, in cui spiego un po' quella che è la mia, il broker preferito per determinare le situazioni, e poi la mia filosofia sarà, avere una o due, al massimo tre, sponsorizzazioni ogni mese, l'obiettivo è più o meno un video a settimana con una menzione, e gli altri video, io pubblico 5 o 6 video a settimana, l'obiettivo è tenerli quasi tutti privi di sponsorizzazione, e uno a settimana con la sponsorizzazione, possiamo chiamarlo il Marchette D, e via, gli altri privi di sponsorizzazione, è un equilibrio che non mi dispiace, le entrate sono sostanziose, e vorrei mantenere il rapporto sponsorizzazioni su contenuto molto 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 basso, quindi vi trovate interviste di due ore con chi è in un hedge fund, o interviste lunghissime o deep dive, puri, depurati, senza zero sponsorizzazione, e ogni tanto un video a settimana con una menzione. I soldi sono tanti, che ci facciamo? Li lasciamo sul tavolino? Però che succede? Visto che comunque sta andando bene da questo punto di vista, non ho quella fame, quei pugni nelle mani, quel pepe al culo, per fare le cose che contano veramente, come il mio corso. Ma resto lì a dire, ok, organizziamo il canale per il prossimo mese, e tanto il business va, questo è un problema. Perché? Perché se continuo così, con questa modalità, non penso e vado avanti molto a lungo. Sono fatto così, cioè di avere sponsor, faccio un palinsesto e vado avanti, non è, non so, non so il canale 5, non so una rete televisiva, ho un progetto, voglio portare avanti un progetto a lungo termine, che mi piace. non c'è, ok, vabbè, detto questo, detto questo qui, comunque un po' di agitazione continua c'è, anche perché io ancora non ho visto i sordi, quindi non ce so, i sordi non ce stanno. è tutto quanto in receivables, tutto in fatture emesse, poi vediamo, poi vediamo, che poi meritai. Torniamo alla mia attività, le entrate sono state 31.800 franchi, circa, e poi c'è qualcosa che ancora non è da conteggiare, comunque queste sono più o meno le entrate, divise come? 23.003 sponsorship e affiliation, la seconda entrata principale sono YouTube, YouTube, questo qui sono stimate e aggiornate fino al 28, o 29, aspetta, due giorni per, 27 se non sbaglio, quindi mancano due giorni, due giorni, fai, si potrà arrivare a 4 e 7 circa, queste sono altre piattaforme di streaming che non vogliono che si dice quanto guadagni, e poi qualche, qualche, 10% delle entrate, in servizi uno a uno, che sto riducendo notevolmente, sto riducendo notevolmente, perché anche lì è un'altra frammentazione del tempo. Quindi queste sono le entrate, più anche donazioni, cioè donazioni queste non sono quelle su Twitter, tipo gente che si è abbonata su Coffee, o che mi fa donazioni Paypal, e allora, sotto i 10 euro, sotto i 10 euro è più accounting, è più lavoro di accounting per me, se volete farmi del male, donatemi tutti un euro, mi fate, mi rompe di coglione, non fatelo, non fatelo, non fatelo, non ho bisogno. uscite sono state relativamente contenute, non entriamo troppo in dettaglio, anche perché ci sono dati sensibili, il grosso sono il mio stipendio, 10.000 lordo, più altro costo del lavoro, altri quasi 2.000, quindi 12.000 sono essenzialmente il mio stipendio, più i contributi che l'azienda paga su Giorgio, e l'affitto del locale, più i collaboratori al momento, un po' di rimborsini, un po' di tanti peccati, tanti rimborsi telefonici, subscription, Notion, il CDA meeting maledetto, viaggi, treni, biglietti, robe, però quindi uscite, dove sta? In tutto, 16.300, al momento, no, profitti, quindi differenza tra entrate e uscite, di questo mese, più 16.000, più 16.000, non male, questo qui è il mese di febbraio, se andiamo a vedere l'anno, fino adesso, se andiamo a vedere il 2024, abbiamo che, siamo a 61.000 di entrate, e uscite, total, bla bla bla, dove sta? Personale, total expenses 23, più altri, non c'è la tomba delle spese, ci sono gli earnings before, le bit, le bit, le bit, le bit, comunque, primi due mesi, 60.000 di entrate, di cui 27 in profitto, quindi in teoria, probabilmente, potrei darmi più stipendio, o fare altro. Andiamo a vedere, andiamo a vedere, le, quello che era il documento, con le stime, tac, con le stime per il 2024, sulle entrate, più o meno le entrate, e qui ho, tang, l'andamento, dei mesi, questo mese, 32.000, in realtà, non so perché l'accounting, viene un po' sbagliato, forse questo qui è da aggiornare, vabbè, vabbè, quindi a febbraio, il canale YouTube principale, ha fatto 4.200 franchi, tutto in franchi, il secondario 2009, queste sono le stime a inizio anno, questo qui è verde, se stiamo sopra le aspettative, rosso se stiamo sotto le aspettative, in questo momento, ogni forma, ogni entrata, è sopra le aspettative, anche se il secondo, ricordo che abbiamo, main channel, mr.rip, slash, yt, il canale delle extra, che è mr.rip, slash, extra, dove ci sono, cose che non sono direttamente, legate ai temi principali, tra cui il tablerone podcast, e tra cui molte riflessioni, un po' a carso di cane, meta contenuti sulla content creation, e forse un domani, qualche esperimento lo facciamo, e Volt, che è il canale dove ricarico le live integrali, tutti quanti sono monetizzati, e via, questo purtroppo non si può vedere, perché sono le piattaforme, che non vuole far vedere quanto si guadagna, e poi abbiamo la parte di affiliation, coaching, e altro, altro è rosso, perché qui in teoria, il grosso, che mi aspettavo da questa sezione, era in teoria, le potenziali vendite del mio corso, stiamo a zero, questo era pianificato, i primi mesi, non è che siamo proprio a zero, anche di creazione, siamo proprio a zero, siamo a zero, siamo a zero, bene così, bene così, quindi abbiamo visto un po' quello che ci interessava vedere, andiamo a vedere il cash flow, di Giorgio Gognome, parte cash flow del mio spreadsheet, oltre alle attività della, grazie della Retire in Progress, GmbA, ci sono ancora delle affiliation, che non ho portato dentro la mia attività, che al momento i soldi li sta prendendo direttamente Giorgio, li conteggerò come entrate diverse, fino a certe cifre annue, si dichiarano, si pagano tasse sopra, ma non devi far molto più, e sono l'affiliazione con Finpension, che è il mio provider di terzo filastro pensionistico preferito, e la Amazon Affiliate, anche lì, mr.rip slash amazon, e se fate acquisti da lì, prendo qualche soldo, ragazzi, mr.rip, il mio dominio è bellissimo, tutti gli short link, queste cose qua, non ho confrontato col business plan, beh, sì, ho fatto vedere, ho fatto vedere, abbiamo visto qua, queste erano le stime annue, e queste sono le attuali, questo era più o meno lo stimato, 2024, e queste sono l'andamento attuale, potrei aggiungere, questo l'ho fatto tipo alle 9 e un quarto stasera, potrei aggiungere qualche grafico, lo farò prima o poi, forse questo spreadsheet, questo sheet lo riporterò nel main spreadsheet, non so se però se ha senso, vediamo, è molto grezzo, è molto grezzo, è molto grezzo, rip, tutto bello, ma dove sono questi BTP valore, dove andrai in crociera d'estate, non l'ho comprato, filmpension, te l'ho pagato io, sono contento, grazie, grazie Zama Tauro, ottimo, ottimo servizio, tra l'altro, quest'anno sta andando molto meglio di via, questa cosa mi deprime, l'anno scorso erano allineati, quest'anno c'è molta discrepanza, ci arriviamo, ci arriviamo subito, le entrate di Giorgio Cognome, sono state, essenzialmente lo stipendio, qui vedete 8.980, mentre nel bilancio della SubExio, abbiamo visto 10.000, quello che l'azienda paga, questi 8.980, quello che arriva a me, dopo che l'azienda mi fa da sostituto, non di imposta, ma da sostituto contributivo, come si può dire, mi trattiene i contributi, di primo e secondo pilastro, e li paga l'azienda, li paga la RIP che MBA, quindi questa entrata qui, è però all'ordo delle tasse attese, quindi quelli sono soldi lordi, ma imponibili, quindi topo i contributi pensionistici, e assicurativi, proprio là, dividendi un po' poveracci, un po' poveracci, tra l'altro un paio, la data di pay date è tipo domani, un po' di revenue anche dagli interessi, sulla liquidità su Interactive Brokers, tasse attese, nessuna roba non taxable, e via, il secondo pilastro pensionistico, secondo pilastro lo conteggio nelle entrate, quindi entrate totali piuttosto bassine, una merda, una merda, e uscite altissime, altissime, questo mese, uscite altissime, ho fatto i sordi coi dividendi, non questo mese, i dividendi il grosso arriverà a marzo, a giugno, a settembre, e a dicembre, perché la maggior parte degli ETF che posseggo, distribuiscono a fine quarter, quindi qua arriva la ciccia, qui arrivano 6-10 mila dollari, più o meno, detto questo quindi, cash flow negativo, negativo, e negativo year to date, entrate di Giorgio, after tax stimate, 21.500, i primi due mesi, uscite 22.000, cash flow negativo, no buono, ok, in realtà potrei darmi più stipendio, c'è prima chi mi ha chiesto se conviene darsi più stipendio o meno stipendio, non l'ho ancora ben capito, non ho neanche mai fatto una vera e propria consulenza con nessuno, forse dovrei farla una consulenza di ottimizzazione fiscale, in realtà credo che sia più o meno irrilevante, anche perché se ti dai troppo stipendio poi paghi più tasse, però anche tenerli lì sopra paghi tasse sui profitti a fine anno, e poi se ti distribuisci i dividendi paghi tasse sui dividendi, credo che convenga darsi più stipendio possibile, solo qual è il problema, al momento l'azienda ha accumulato crediti, perché ancora è pieno di fatture uscite, e quindi potrei darmi più stipendio, anche se i soldi in cassa l'azienda ne ha pochi, molti crediti, molti crediti, però ha pochi i soldi in cassa, potrei darmi più stipendio, probabilmente può darsi che lo farò anche retroattivamente, in Svizzera è veramente easy, posso tranquillamente dire, ok mi sono dato in realtà 15.000 al mese, potrei alzarmi lo stipendio a 15.000, e almeno arrivare a fine mese, no RIP non arriva fino a fine mese, e non vuole le vostre donazioni, cioè RIP non arriva a fine mese, fa un sacco di marchette, non assume, non, 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 cioè sto a fare risparmiare, l'azienda così sta crescendo, è contenta l'azienda che cresce, andiamo a vedere le uscite, andiamo a vedere le uscite, sono state molto alte, molto alte, andiamo in dashboard, quale categoria secondo voi, quale categoria secondo voi è arrivata a cifre che non erano neanche pensabili dall'essere umano, quale? Baby, Baby, 5.300, e travel, vabbè adesso posso spiegare vostro, e ho una storia divertente, bravi mod che me ne ha, bravi che me ne ha, ho una storia divertente da raccontarvi, molto italiana, ecco questo febbraio, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, febbraio ragazzi, è stato un mese molto italiano, per quattro motivi, viaggio a Roma, viaggio a Milano, storia sulla categoria Baby che vi racconterò, e la quarta storia, lo dico proprio a te Federica, che sicuramente mi starei ascoltando, io da quella storia sono stato assolto con formula piena, assolto con formula piena, forse, è stato un incidente, è stato un incidente, allora, categoria Baby è un attimo sfuggita di mano, però se togliamo la categoria Baby, che sta a 5.384, e la categoria Travel che sta a 2009, l'immortacci sua, sarebbe stato un mese normale, senza le cose eccezionali che costano come un rene, andiamo a vedere i dettagli delle spese, mamma mia, mamma mia, allora, con calma, vediamo se c'è qualcosa di cui possiamo, già partono i pezzi, pezzi da mille, pam pam, mille assicurazioni sanitarie, 2.335 affitto, che da aprile, da aprile, non far vedere indirizzi, non far vedere indirizzi, da aprile diventeranno 2.457, affitto più costi di condominio, quindi 120 in più, ma questo lo sapevo già, perché sono aumentati i tassi di reference, i tassi di riferimento svizzeri, poi, stroller, così senza senso, ci sei rotto il passeggino, e te che fai, non te ne compri in altro? Devi viaggiare, che fai, non ti compri il passeggino? Andiamo giù, altre cose che meritano di essere menzionate, vediamo un po', niente di importante, tutta spesa, cop, cop, a parte quante qua, migros, cop, migros, denner, denner, stiamo sempre a far dentro e fuori dal denner, capito? viaggio a Roma, dal 12 al 14, dall'11 al 14, dal 10 al 14, sono stato a Roma, quattro giorni a Roma sono stato, e ho speso qualche soldo, taxi, bar, non so perché c'è una spesa dei mezzi pubblici a Zurigo, il 13, stavo a Roma, ricontrollerò l'estratto conto della carta di credito, e via, spendi a Roma, vai al ristorante, paga per tutti, che cazzo te ne frega, bene così, allora, quindi viaggio a Roma, una scoreggetta, ecco sta, poi, ok, sì ma le bimbe, sì ma le baby, Milano, viaggio a Milano, porto la famiglia a Milano, viaggio a Milano, siccome c'erano motivi anche di lavoro, una parte del viaggio è rimborsata, l'azienda ce lo concede, Milano, viaggio, torno e sto una settimana, una settimana a casa da solo, una settimana a casa da solo, porto la famiglia a Milano, torno su, una settimana da solo, poi torno giù a prendere la famiglia e ritorno su, ho fatto due viaggi a Milano, la settimana sono stato da solo a Zurigo, è stata a Barbone di Dio, anzi ho speso dei soldi per mangiare, e via, e poi, arriva la prima mazzata grossa, vacanze estive, vacanze estive, vacanze estive, abbiamo fissato le vacanze estive, pagato il primo acconto, questo 2k, 1930 euro, qui in teoria adesso, un po' di accounting, in teoria, questa vacanza è cancellabile, fino a 30 giorni prima, senza alcuna penale, se non mi sembra 50 euro di spesa amministrativa, quindi in teoria questo qui non dovrebbe neanche essere un costo, dovrebbe essere un credito, io ho un credito, che posso riscuotere da questa banca, che si chiama, luogo dove andrò in vacanza, che se cancello fino a 30 giorni prima delle vacanze, me li restituiscono, quindi in teoria non dovrebbe essere neanche un costo, proprio per semplificare, su queste cose consideriamo il flusso di cassa, ok? punto di vista di accounting dovrebbe sempre essere un credito che ho, a 30 giorni dalla data di inizio vacanza, scatta il costo, perché non sono più recuperabili, li perdo se non ci vado, però quindi, di quei 13.000 che abbiamo visto, 1929 sono la parte travel, travel c'è anche il viaggio a Milano, il viaggio a Roma, che tra una cosa e l'altra sono comunque costati, poi cosa arriva? Pam! Altra, allora, 26 e 29 febbraio, 5.120 in categoria baby, 2.400 franchi e a distanza di tre giorni 2.720, allora i 2.720 sono il costo del mio, crippe, della, della, come si chiama, della sironito, questa è la sironito, ricordo per chi non lo sapesse, che ho due gemelle, due bambine gemelle di due anni, che vanno all'asilo nido in Svizzera, e questo è il costo per mandarle tre giorni a settimana, volessi mandarle cinque giorni, spenderei 4.500, per mia fortuna da agosto aumenterà di un pochino, perché era troppo economico, e quindi aumenterà di cinque al giorno, per due bambine, per n giorni al mese, aumenterà, arriverà a 2.850, per mandarle tre giorni a settimana, tutte e cinque che sei matto, e poi altri biglietti per Milano, in realtà nient'altro, io non faccio un cazzo, io vado, non faccio niente, sto sempre qua, sto qua, sto qua, e però ho speso 13.700, nonostante di, c'erano altri cinque, seicento franchi che sono rimborsati dall'azienda, perché sono cose di business, qualche cena di business, qualche viaggio, qualcosa di rimborso, no, soldi che avrei speso io, 13.700, due anni di quanto spendevo quando abitavo a Pioltello, Pioltello che tra l'altro, è ancora nei nostri cuori, ci sono stato a mangiare alla cadrega lunedì scorso, comunque 13.700, il grosso, ovviamente fuori scala, sono spese per i bambini, come avete visto, e spese di viaggio, che sono 1.900 di acconto, vacanze estive, 1.000 tra Roma e Milano, cazzatine, spese qua e là, Roma e Milano, per il resto, se non era un mese normale, il mese normale, è un mese da 9.000, quant'è? Da 9.000, perfetto, entrate, uscite, cash flow negativo, ok, finita la parte di cash flow, andiamo alla parte, diciamo, di mercati, come sono andati i mercati, tan 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 tan, mercati positivi, ovviamente, lo sappiamo, non è una novità, non è una sorpresa, i mercati sono andati abbastanza bene, il mondo, il world, stiamo ormai quasi, quasi all time high, l'S&P 500 è all time high, il world, il mio Vanguard VT, se non sbaglio, ha toccato i 108 in passato, ma il mese è stato chiuso molto positivo, la parte, ne qualche individual stocks che fanno sempre, come cazzo è possibile, che Intel, ma come mai, ma quelli fanno i chip, e fanno i miliardi, quegli altri sfigati, maledetti, e tu, io, il vecchio, la vecchia gloria e fai schifo al cazzo, ah beh, individual stocks, giocattoli, per il resto, anche i bond non sono andati benissimo, lo fanno, lo fanno, currency conversion, il franco è debole, euro e dollaro vanno alla grande rispetto al franco, il che mi fa molto piacere, perché vuol dire che in franchi svizzeri il mio patrimonio sta salendo, più di quanto vedrei se conteggiassi primariamente in dollari, e le cripto vanno alla grande, alla grande, alla grande, alla grande, il mio patrimonio cripto sta crescendo come se non ci fossero domani. ok, siamo rullo di tamburi, com'è andato il mese? com'è andato il mese? Allora, ovviamente guardando soltanto l'aspetto mercati positivi, però cash flow negativo verrebbe a dire l'andamento è positivino, positivello, perché comunque il mio patrimonio investito è molto alto, in realtà però c'è anche una piccola bugia, nel senso che comunque nonostante il cash flow è striminzito, la mia azienda sta accumulando capitale, quindi in teoria anche quello è il pezzo di cash flow, infatti nel patrimonio l'azienda sta aumentando come valore e quindi questo impatterà, impatterà l'andamento. Comunque, rullo di tamburi, tambullo di luri, eccolo qua, questo è l'andamento del mese, più 73 mila franchi, zoomiamo, più 73 mila franchi e siamo drammaticamente vicini ai due milioni in franchi, a superare, a diventare multimilionario, finalmente a essere il meno multimilionario di Zurigo, ancora no, però già che farò il refresh mensile e faccio accounting per il valore atteso delle sponsorizzazioni già già con la frizz della colonna dovrei raggiungere i due milioni e già stiamo lì. Quindi, quindi signori miei, Ale, detto questo, detto questo, intanto si festeggia, detto questo però anche sti cazzi, Ale, cheers ragazzi, è stato un bel mese finanziariamente, ho 92k Elon Musk, allora il reverse Elon Musk sta qui per il meme e misura il mio patrimonio in, cioè misura quanti rip ci vogliono per fare il patrimonio di Elon Musk, se facessimo una città dalla dimensione di, chi è che ha 100 mila abitanti, città, città italiane con 92 mila abitanti, ce l'abbiamo comuni per popolazione, oh, 92 mila, eccolo qua, barletta, cioè se barletta fosse composta da tutte persone col mio patrimonio, barletta composta da 92 mila persone col mio patrimonio sarebbe ricca come Elon Musk, fa strano eh, minchia quanto son povero, mi piace sta metrica, in reverse ogni mese cerchiamo la 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 città più vicina forse più spezia, forse più spezia, barletta o spezia, 92,6 è spezia, spezia, la spezia, è più la spezia, Elon Musk è ricco, ecco, se tutta barletta fosse fatta di gente ricca come me, ci sarebbero ancora, ci vorrebbero 300 Mr. Rip per arrivare a Elon Musk, detto questo, detto questo, il patrimonio misurato in bitcoin è sceso drammaticamente, questo ricordo agli amici che non ci arrivano, che non è, non è il, non è che io ho 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 36 bitcoin, quello è l'equivalente, quanti bitcoin equivalgono al mio patrimonio, cioè se io prendessi tutto il mio patrimonio e lo convertissi in bitcoin avrei 36 bitcoin e 67 penso, potrei avere invece che tutto quello che ho tutti gli investimenti, le cose, tutti i board games, vendere tutto e sapere che da qualche parte in una in un po' di repliche sul computer ci sta qualcuno che ha minato un blocco con scritto che io ho un numero che è quello lì sarebbe una figa le altre currency che sono più forti hanno visto quindi un patrimonio che comunque è salito sto tracciando di meno le altre currency sto considerando solo sull'aspetto sull'aspetto franco svizzero l'andamento year to date nelle altre currency c'è qui un più 081 un più 303 in franco e svizzeri sta andando bene perché il franco è un po' più debole dopo qualche anno che è troppo forte quest'anno il franco è un po' più debole che mi fa sentire più ricco anche perché i miei accordi con i brand sono tutti quanti in euro in dollari per cui se il franco è debole e l'euro e il dollaro salgono non è che mi dispiace molto sono abbastanza contento detto questo ok adesso si va in generale a dare un'occhiata a cosa è successo nelle mie varie asset cosa ho fatto cosa è variato cosa ho fatto allora una cosa che ho fatto è stato vendere un po' troppi vt ho venduto vt allora il 16 febbraio ho ricomprato delle covered call che erano andate in the money io ogni tanto ci farò una live apposta era in teoria anche in calendario settimana scorsa ma poi non ha ingambato ma farò una live in cui spiegherò un po' bene il mio comportamento con le option e ho siccome avevo venduto ogni singola share di vanguard vt era coperta da option da call option che avevo venduto a 105 quando stavano a 95 erano arrivate vicino alla scadenza il 16 febbraio un po' sopra un po' sopra in realtà a 106 106,40 circa le ho ricomprate il giorno della scadenza al prezzo essenzialmente ho pagato tutto quanto all'intrinsic value e le ho ricomprate l'alternativa era o rollarle oppure lasciarle scadere e cedere vt a 105 le ho ricomprate e poi ho anche venduto del sottostante ho venduto un po' di vt perché adesso vediamo perché volevo andare a fare un po' di rebalancing del mio portfolio le ho vendute però ho trovato una cosa che non mi è piaciuta tantissimo eh non mi è piaciuta tantissimo ora andiamo un po' finiamo la parte di cosa ho fatto lato azionario e poi andiamo a vedere il mio asset allocation che è la parte interessante vediamo anche gli altri tab che non si vedono mai li vediamo a marzo li vediamo nei fine quarter perché non li ho aggiornati e facciamo troppo tardi però negli update di fine quarter vedremo anche gli altri tab quindi abbiate pazienza a marzo mi prendo del tempo giorni prima per allinearli se no questi sono un po' putrefatti non sono aggiornati ma lo farò quest'anno ma anche l'anno scorso sto dando molto meno interesse al mio patrimonio mi interessa un po' di meno sono un po' più olistico in questa fase della vita mi interessa un po' di meno perché mi interessa un po' di meno perché vedo una crescita simpatica allineata col mercato che però non mi porta da nessuna parte ragazzi io sto in un limbo sto in una situazione inutile cioè due milioni non non ci faccio un cazzo per essere fire dovrei averne cinque quattro e mezzo e se continuo con questo passo fantastico ci arrivo fra quindici anni non è più neanche fire a sessanta a sessantadue anni che cioè vado in pensione oh wow rip ha smesso di lavorare a sessantadue anni quindi sto in una fase intermedia in cui sono ovviamente lontano dai traguardi finanziari e lontano dalla povertà cioè sto lontanissimo dalla povertà e lontano dalla dalla libertà sto a mettere sto a mettere tipo a tennis quando stai nella riga al centro stai nella terra di nessuno e quindi dico vabbè ok non è con incrementi di 30k al mese c'è 73 non è male però non è che il mercato farà sempre così non è che 30k al mese di crescita non vado da nessuna parte quindi venduto un po' di VT per un rebalancing ma è successa una cosa che non mi è piaciuta Interactive Brokers ma stranamente non l'ho mai vista sta cosa mi dava come soldi investibili cioè mi li dava ancora non settled i soldi di VT e quindi non potevo ricomprare il giorno stesso mi sembra non l'ho mai vista sta cosa non so dovrei chiamare l'assistenza una cosa brutta di Interactive Brokers non so se è normale in genere io quando vendevo cioè vendo una roba i soldi li vedo subito sul mio conto e li posso subito reinvestire invece vendo soldi vedo la liquidità però poi nell'acquisto invece era settled cash quella che avevo il giorno prima cioè i soldi della vendita non erano ancora settled non erano ancora usabili è che la prima volta che mi succede la prima volta che mi succede in teoria avevo quindi 100.000 dollari che voglio usarli e non li ho potuti usare e ho detto beh ci devo tornare il giorno dopo ma non l'ho più fatto e quindi ho ancora liquidità questo è successo è successo anche a me questa settimana è la prima settimana non vorrei che forse B ha cambiato qualcosa forse l'alta volatilità non lo so non credo che sia nessun segnale preoccupante ma anche a me è successo ma io ho sempre avuto account cash non mi era mai successo eppure dei giorni ho fatto spostamenti molto grossi cioè c'è un giorno nel 2021 non ricordo se era il 2021 che a un certo punto ho spostato 900.000 cioè qua a gennaio ho comprato 700.000 dollari venduti il giorno prima cioè mi erano successe cose più grandi ma non era mai successa questa cosa qua che il cash not settled non potevi ritirarlo quindi se io vendessi tutto e volessi prelevare soldi il giorno stesso ci vorrebbero un paio di giorni perché capisco pure che se tu vendi qualcosa deve esserci il settlement due giorni dopo a T più 2 e poi dopo i soldi stanno se la banca è depositare e poi ritirarli quindi questo sì ma investiti in teoria sono sempre investibili subiti e vabbè e vabbè cash saldo contabile è disponibile vabbè contabilizzati scusate il l'ingresismo ok andiamo avanti altre cose che ho fatto ho rollato altre call su VTV che mi sembra che sono già in demone mannaggia il cazzo sono già in demone sono già in demone a 155 VTV 155 sono in demone e vabbè io sono fatto così quando le cose vanno troppo bene mi spavento e quindi devo devo tranquillizzarmi quindi sto rollando option c'è chi rolla canna io rollo le option questa è bella però eh rollato anche le Sony rollato le Intel vabbè almeno questi non qualche soldino poi 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 reagiremo anche a Ben Felix sulle covered call ETF sulle option ma ok ok benissimo altre cose meritevoli di essere menzionate io direi che andiamo finiamo la parte diciamo di investimenti prendiamo sull'asset allocation tutto va bene qui in realtà ecco Finpension e Viac sto tracciando come l'anno scorso l'andamento dei miei terzi e secondi pilastri con Viac e Finpension e mi sembra di notare delle performance proprio molto diverse quest'anno l'anno scorso no ma quest'anno molto diverse tra Finpension e Viac sono due punti percentuali tra Finpension e Viac a favore di Finpension adesso se è al contrario l'avrete lo stesso io ho affiliation con Finpension però sono tentato a spostare questo secondo pilastro nella seconda come si chiama Finpension a due foundation e quindi posso aprire due secondi pilastri vested benefit account con Finpension ho tentato a spostarmi chissà se vale l'auto referral è una roba è una roba sposta sposta ma anche Finpension è vero il 40% sicuramente la differenza in andamento è sul fatto che la Svizzera non sta andando un gran che bene l'indice SMI non sta andando bene quindi forse sposterei forse lo farò quindi questi qua finiranno in Finpension 2 secondo pilastro vested benefit non li voglio mergiare con questi qua perché poi dopo non sono ritirabili in maniera separata voglio tenere su due diversi account con vested benefit account ok ok poi altre cose ragionevoli vediamo un po' sì c'è un po' un casino c'è un po' un casino con il secondo pilastro lavorativo perché siccome a novembre e dicembre gli ho comunicato ad AXA il mio secondo pilastro che ho aumentato lo stipendio poi l'ho diminuito per il 2024 però ho dato la tredicesima e si sono incartati a un certo punto penso che loro sono convinti che la mia azienda ha tre dipendenti che si chiamano con lo stesso nome e stesso cognome infatti mi dice wow quest'anno pagherai 50.000 di secondo pilastro per tutti i tuoi dipendenti quindi adesso forse dovrò comunicargli che non ho tre dipendenti che si chiamano uguale e quindi però mi sono arrivati anche a me personalmente diversi certificati con diversi numeri dentro li ho chiamati al 5 febbraio e a quanto pare ho questo saldo sul conto vabbè un po' complicato diciamo gestire il secondo pilastro come datore di lavoro è un po' complicato specie se il mio unico dipendente cambia stipendio ogni quarto d'ora è un po' complicato detto questo interessi sul deposito di casa ha comprato un po' di bond lo fanno lo fanno rip compra i bond quando le stock stanno troppo alte lo fanno e andiamo a vedere andiamo a vedere le crypto top 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 andiamo a vedere vediamo un po' la parte business ok poi vediamo la set allocation la parte business sta aumentando questa parte grigia qua è il valore il book value della mia azienda è in grigio e non ha una currency qui altrimenti sminchierebbe le formule e farei double counting questo qui in realtà è la seconda è la somma di tutti gli altri gli altri aspetti della GmbA ok quindi questo qui è una somma se questo qui gli ha più passi la currency per la formula che c'è sotto che somma tutta la colonna verrebbe sommata due volte però la voglio tenere qua in grigietto per ricordarmi quant'è il book value quant'è il balance sheet dell'azienda l'azienda sta aumentando di valore perché perché ha entrate ha certe entrate e a meno uscite sta aumentando valore quindi però se retroattivamente mi alzo lo stipendio il valore scende per cui ho sempre soldi che entrano e escono ok andiamo avanti con le cazzatine le cazzatine la GmbA quindi aumenta di valore in realtà questo è un accounting giusto per mostrare le stesse cose che avete visto di là cioè entrate da red viola e sponsorship potrebbero non coincidere alla lettera ai numerini perché in realtà questo si auto-aggiorna quando io aggiorno dei parametri su un altro spreadsheet lo so che siete bravi qualcuno ha provato andare su questo spreadsheet c'è anche richiesto l'accesso non ve lo do l'accesso dovete morire lo do l'accesso cioè dei dati privati detto così detto questo liquidità ne ho tanta in questo periodo ancora i soldi che poi si sono settled su interactive brokers sia in franchi che in dollari quindi ho un bel po' di liquidità su IB inutilmente ho liquidità su IB perché dovevo ribilanciare non l'ho fatto non l'ho fatto altre cose interessanti purtroppo le tasse per il 2022 sono arrivate mi hanno contestato una volta ero forse in diretta mi hanno contestato una deduzione mi hanno detto questa non puoi detrarlo non puoi deturlo dalle tasse e quindi ti abbiamo modificato il tuo tax return bello della Svizzera non c'è nessun procedimento penale perché sei un criminale nessuno sta fumando mi hanno modificato io avevo 30 giorni per contestarlo sono passati non ancora però non so neanche cosa mi hanno contestato ho pagato cioè in teoria mi aspettavo un tax return molto più positivo da 5.400 e invece è arrivato un tax return più basso quindi tecnicamente ho preso un cetriolino da 2.500 in meno vabbè vabbè che se non sbaglio ho provato a dedurre il nido ma con mia moglie che non ha un lavoro per loro non è deducibile cosa altra è successo niente di partito sono aumentati i board games sono aumentati i board games perché perché Fantasia Store mi ha fatto un bel regalo mi ha fatto un bel regalo tanto con Christian siamo stati anche a mangiare assieme a Pioltello grande Fantasia Store credo che però alla fine eccola dove arrivavano gli altri l'altro sponsor credo che li dovrò conteggiare come 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 entrata alla fine è un regalo l'ho menzionato in live è una sponsorizzazione quindi teoricamente i soldi dei board games del regalo li considero li li metterò a bilancio come una sponsorizzazione e quindi ecco là che però questo è un double counting perché stanno sia nel bilancio della GmbH che nel bilancio personale ci devo pensare ci devo pensare io metto a bilancio il valore dei board games ma considero il primo pilastro sì considero anche il primo pilastro pensionistico col valore attualizzato quindi l'aspettativa di cash flow futuro attualizzata al presente per me quello ha un valore è ovvio che è un po' un cheat non è liquidità però è cioè se io avessi un fratello gemello identico a me magari malvagio un fratello gemello casellante che è identico a me ma non ha nessun contributo versato in Svizzera sarebbe più povero e questo più o meno è quanto andiamo sull'asset allocation vediamo un po' cosa ho fatto cosa avrei dovuto fare cosa devo ancora fare e facciamolo assieme allora ero in ero in in delta negativo sulle azioni questo qui per chi non lo conosce è il mio tab il mio foglio sheet asset allocation in cui traccio la mia asset allocation ideale e la mia asset allocation attuale l'asset allocation ideale è target l'asset allocation attuale è current non actual actual non è attuale quindi cosa ho fatto avendo avendo venduto un po' di stocks per ribilanciare perché ero troppo in alto avrei dovuto ricomprare un po' di bond e un po' e diversificare all'interno delle categorie stocks secondo il quality factor che ho comprato un pezzettino ma mi manca ancora per raggiungere l'asset allocation ideale quindi in teoria avevo venduto vt per arrivare a zero qui di delta tra expectations e reality e poi avrei dovuto comprare un 50.000 tra jqa e iqlt che sono due etf quality factor però non era settled quel cash e quindi non ho potuto comprarli il giorno che ho fatto il rebalancing ho detto vabbè ci torno domani poi non ci sono tornato domani e quindi in teoria devo farlo quindi in teoria per arrivare alla mia statale location ideale devo liberarmi di questa quantità di cash e comprare essenzialmente questa roba qui forse anche vendere qui io non tendo proprio ad essere zero 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 con al locale ideale attuale basta che sto in un certo range non sto ogni mese a vendere mille euro è anche pesante però dove sto fuori di un 10k è da ribilanciare quindi io devo vendere anche un altro po' di dovrei liberarmi di individual stocks dovrei liberare diciamo che sto vendo call vicino vicino allo strike vicino al market price per dire dai vendo la call così vai in money vaffanculo ma poi vanno sempre male questi individual stocks se mi liberassi di individual stocks starei starei a posto qua più quality factor e stocks sono allineato col mio obiettivo e di qua ancora un po' di bond europei da comprare però dovrei liberarmi di un po' di bond un po' più spazzaturina questi hanno bei dividendi in realtà adesso qual è il problema mi convince questa asset allocation qualcosa mi spingerebbe verso un 70-30 ma l'ho fatto da poco la nuova asset allocation è che quando le cose vanno bene tendo ad essere più prudente perché perché lo so il cetriolo è dietro l'angolo per cui tendo ad essere più prudente e market timing un po' sì un po' un po' sì perché non al fine di fare profitti al fine di come dire date queste condizioni di mercato i base rates sono diversi ok non io porto sempre il mio proselitismo sulla efficient market hypothesis e sul random walk una parte di me sa che i mercati sono molto efficienti l'unico random walk che abbiamo visto fino adesso comunque ha mostrato segnali di reversion to the mean e quindi un po' un minimo mi dico se i mercati sono i fondamentali sono troppo alti cioè i i multi sono troppo alti le aspettative future sono un po' più basse per cui mi risposto levemente in in asset class che mi danno più prudenza più sicurezza non lo farò non lo farò comunque sempre piccoli spostamenti lievi un minimo di attività che mi fa sembrare che mi fa sembrare che mi tranquillizza potrei fare un 70-30 cosa cambierebbe se facessi 70-30 però non lo faccio da 30 il giochino mi direbbe ok bene devi vendere un altro po' di roba torna qua ti è piaciuto vendere VT vendi un altro po' di VT bravo altre 400 stocks e poi ribilancia qua dentro e poi gonfiere dei bond non lo farò non lo farò non lo farò resterò così diciamo che io devo pensare alla protezione del capitale non mi in queste condizioni non ho non ho non so come potrei reagire anche se magari magari no sto sto esagerando in prudenza non so come potrei reagire se il mercato crollasse di brutto domani in realtà in realtà non sto seguendolo con tanto con tanto entusiasmo però però comunque non farò alcun cambiamento perché non voglio essere troppo attivo non voglio essere troppo attivo voglio essere un minimo attivo ogni sei mesi ogni anno ribilanciare un pochino però quando ci sono condizioni di mercato particolari questa a mio avviso oggi sono condizioni particolari il mercato c'è troppa euforia c'è troppa euforia secondo me voglio essere un po' più prudente quindi una parte di me vorrebbe scendere un pochino ma lo zen che in me dice no stai con la sua strategia per il tempo che deve che deve essere dicevamo quindi cosa dovrei fare solo per far contenta la mia set allocation dovrei magari a marzo lo faccio prendere 50k di liquidità un po' mi spiace e comprarci quality vendere un po' di questo e con quello che rimane ribilanciare anche qua dentro però qui sotto i 10k non c'ho voglia di ribilanciare quindi forse questo rimane un po' sbilanciato che sono bond governativi europei ok le altre gli altri tab li vediamo una volta per quarter sono rimasto un po' indietro sono rimasto un po' indietro non li ho aggiornati li aggiornerò per fine quarter detto questo credo che più o meno abbiamo finito un po' indietro che è un po' indietro che è un po' indietro non c'ho Grazie a tutti.